ciao amici e amiche toem a photo adventure gioco incluso nel playstation plus settembre 22 speriamo che ci sia l'italiano ma non credo andiamo andiamo a vederlo ok ok zainetto ok necessario per poter viaggiare televisione la spegniamo ha un girato con la sedia bellissimo ok il cassetto found allora vediamo un secondo a c'è solo questo ok ma questa è una ragazza il nome più o del 1 eccitato questo è lo spirito giusto mi dà la borsa mi dà mi sa mi dà la borsa mani faccio wow 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 ma si può anche zoomare vabbè lui si siede ok ecco qua si mi piace dove è? eccola qua natural ok ogni oh all'interno l'inizio 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 ok sì no io vorrei andare forse devo fare fotografie ok 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 un pacco le scarpe eh sì ok 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 no no very great so thank you ah vedi hehehe ha 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 the big journey to experience of phenomenon come 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 good job ok grazie grazie e vai free boss ride stamp ok due carte ma forse devo andare dalla mucca la mucca se gli faccio vedere mi dice che gli piace che non che 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 Ok, ci sto. Bello il bassettino quadratino quadraterno. Il bassettino quadratino. O a Claville. C'è un po' di cotton puff? C'è un po' di cotton puff? Ma questo non gli ne frega nulla. Ok. Ah-ha. Bellissimo. Ok. Community e la musica. Beh, iniziamo a vedere com'è qui. C'è un po' di più. C'è un po' di più. E' un po' di più. C'è 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 un po' di più. Ciao. C'è un po' di più. Ok. C'è un po' di più. 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 Oh, mio Dio. Questo è fattivo. Questo è fattivo. Questo è fattivo. Prendi questo. Occhiali. Certo che li voglio. Questi sono grandi. Possono fattere i fattori. Possono fattere i fattori. Un altro. Io vedo un fattore. Io vedo un ghost. Il ghost ghost. Il ghost ghost ghost. Ok, nulla, cestino, la televisione, ci andiamo, la televisione, la televisione, va bene, ok, ok, eh sì, amore mio, torniamo indietro, cestino, 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 Grazie a tutti. 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 Un botto di foto. No dai, tutte le lingue tranne l'italiano. Ancora una volta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.